Musica Bene ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura93 Oggi sono qui per parlarvi di un evento della community di Call of Duty World War 2 Ed è l'evento del Resistance, la Resistenza In questo caso stiamo parlando di un evento che anticipa il DLC 1 di Call of Duty E questo evento ovviamente partirà dal 23 di gennaio, cioè martedì prossimo Fino ad arrivare al 27 di febbraio Come sappiamo questo evento include tantissime cose in aggiunta Parliamo di approvvigionamenti, parliamo di armi, parliamo di divisioni E parliamo anche di varie modalità e punti esperienza Ovviamente ciò che risalta subito all'occhio è la nuova divisione del Resistance Non sappiamo quali sono le specialità che ha Quali sono qualsiasi vestiario, qualsiasi cosa implementi questa divisione Però potremmo tirare e indovinare Secondo me la Resistenza, la divisione della Resistenza Sarà una sorta di specialista come Blackjack Vi ricordate Blackjack di Black Ops 3? Una cosa del genere Che racchiude tutte le divisioni che sono presenti in questo momento nel gioco di World War 2 Ragazzi preparatevi il 23 gennaio perché vi mostrerò Magari se non vi farò un video Vi farò una live su tutte le sfaccettature di questa divisione del Resistance E tutto ciò che riguarda ovviamente il gioco in sé con questi aggiornamenti Ragazzi non c'è molto da dire Comunque ci sono 4 armi nuove che sono Un fucile d'assalto, una mitraglietta, una pistola e un coltello Queste armi l'unica che mi ricorda è l'orso Mi sa che dovrebbe essere la mitraglietta che è italiana E niente, playlist da doppi punti Sicuramente le playlist da doppi punti dovrebbero essere quelle con le nuove modalità che hanno implementato Quindi ragazzi non ci resta che aspettare questo DLC Speriamo non ci deluda E niente, iscrivetevi, commentate, mettete un bel mi piace Ci vediamo alla prossima Bella